Con partenza dal pittoresco villaggio cinese e sorto a cornice esotica della grande fiera dell'Ovest, sull'isola del tesoro della Baia di San Francisco, si è svolta una gara fra Risho, delle leggere carrozzette d'estremo oriente trainate da uomini cavallo, con il volenteroso concorso di giovanotti cinesi e di ragazzi americane, allegramente incuranti dell'inevitabile sballottamento che questo genere di veicolo comporta. Grazie a tutti!